non riuscivo a pensare a niente mentre me la cavo via come si fa a spiegare una cosa simile a qualcuno non sono un tipo di persona che spiega tutto di sé e non chiedo che lo sarò mai e che non c'è niente da spiegare altre cose che non può essere spiegato ecco cosa cerchiamo di dire e che non sono così e che non voglio la casa non voglio regarmi io non lo so ora che sono lontano vorrei entrare dove ero prima più di quando mi ci trovavo è sufficiente dire che è solo un particolare tipo di turista un turista il viaggio permanente e che è solo un particolare tipo di turismo è solo un particolare tipo di turismo quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.